La presentazione degli ultimi acquisti del Bari, Bogliasino e Koprivec, ha consentito l'amministratore unico Claudio Garzelli di fare delle importanti precisazioni sullo stato di salute e sugli obiettivi finanziari e tecnici del Bari. Sull'argomento l'alter ego del presidente Materrese è stato molto chiaro. Certamente è diminuito di molto il costo complessivo della squadra, quindi del costo lavoro della squadra e abbiamo ottenuto anche un risultato in termini finanziari. Certamente però dovremo fare i conti in questo campionato con una riduzione altrettanto grande nei ricavi, perché è ovvio che la Serie A portava ricavi di almeno 30 milioni di euro e voi sapete che la Serie B ovviamente non porta neanche o poco più di un terzo di questi ricavi. Nella stessa occasione abbiamo avuto modo di conoscere il neocentrocampista biancorosso, l'uruguaiano Bogliassino, molto dotato dal punto di vista qualitativo, quasi un lusso per la Serie B, ma Mariano, del salto di categoria, non se ne fa certo un cruccio, anzi dice che vuole tornare con il Bari in Serie A. Motivato, molto motivato, mi è piaciuto che il Bari mi ha chiamato, ho parlato con il mister, l'ho visto molto motivato, anche io ho voglia di dimostrare le mie qualità, non mi interessa l'escesso di categoria, ho trovato una squadra giovane e con molta voglia di fare bene come me. Il secondo portiere dopo il caso Massiello non è più Slamal, ma il giovane sloveno Jan Koprivez, che al momento è conscio dello status di titolare di Eugenio Lamanna. Lamanna è partito molto bene, quindi io sicuramente mi metto a disposizione, mi alleno, posso dire solo una cosa, che io mi allenerò sempre bene, mi darò tutto a me stesso, poi se io valuterà sicuramente, mi sono contenta di non giocare, però Lamanna è partito molto bene, quindi devo essere tranquillo.